ciao a tutti ciao bentornati sul mio canale oggi faccio per la prima volta su questo canale un smr di cibo coreano ci proviamo finalmente abbiamo gian gian mion con i faccioli i faccioli poi bibimbap con le verdure ed ecco pochi ovviamente quelli classici non piccanti e il pollo fritto, che mangeremo una fila, la coca cola, si che rovino tutto ma vabbè, niente quindi mangiamo perché stiamo morendo di fame un po' di sottotitolo Sì 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 mi è passata la tosse la metà la metà la metà piccante piccante ok Il nostro corso gratuito è un po' di più di più di più. Sì Viva il YouTube Oh yeah Doi farne di più Un po' contello C'è un po' contello C'è un po' contello C'è un po' contello Oh my gosh C'è un po' contello Oh my gosh 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 Non è tutto questo. e 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 morir andiamo per cena dopo adesso riesce a finire l'idea sono piena vorrei che se ne blocca il bello ti ha diretto un momento due di cerine e 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 esperienza italia 150 cosa andro e visto 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 se e 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 troppo buoni per essere lasciati un po' e non lo faccio e 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